ciao allora benvenuti in un nuovo video oggi vi voglio mostrare la birk box si è strana come box allora ho tolto solo l'involucro intorno in cartone perché c'erano i miei atti personali ma la box è questa e io non l'ho ancora aperta e dai rumori che sento all'interno sono curiosa di aprirla allora questa box viene da un sito francese birk box c'è USA oppure in Francia dovete scegliere quella francese perché spedisce in Italia e ho assegnato tutto perché questa me l'hanno omaggiata però è dunque è un abbonamento mensile quindi non ci sono altri piani c'è solo il mensile che sono aspettate 13 e 90 a box più 3 euro e 10 di spedizione quindi 17 euro a box abbonamento mensile che si rinnova ogni mese potete sospenderlo o disattivarlo voi sul sito comunque abbastanza facile da capire quindi poi aspettate perché c'è un'altra cosa da dire sto leggendo qui sotto nell'info box c'è un codice per ricevere 10 euro di acquisto sul sito perché è un sito che ha tante marche quindi davvero un sito valido e comodo e per ricevere anche 100 punti dunque ogni acquisto si accumulano dei punti oppure con ogni acquisto oppure in questo caso con il codice ne avete già 100 e ogni 100 punti c'è lo sconto del 10% sul vostro carrello quindi penso ad avervi detto tutto allora vediamo alla box birk box anche perché ha tantissimi prodotti vegan quindi ci sono curiosa è questa qui belli colori dice magic hour no apriamola splendist edition e te a edizione estate nove essenziali formato vendita no 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 scusate questa quale è limitata è un'altra box quindi per l'estate magic hour eccola qua la nostra box bello allora vi dico che è una box penso di giugno di giugno perché dal 10 al 23 giugno c'erano i birk box day con lo sconto del 50% sapete che le box che mi mandano ed è a titolo gratuito solo per testarle e per recensirle con voi sono box che sono rimaste vecchie inzioni passate comunque quella di giugno vediamo questo libretto ah no no aspettate perché qui c'è lo spoiler e non lo voglio lo spoiler quindi via vumun ah in collaborazione con vumun ecco il perché di questa disegno che sembra quasi tarocchi perché in collaborazione con vumun che piccola guida per conoscere di più sulla luna e l'astrologia ecco perfetto luna luna nuova luna piena lo zodiaco anche da leggere carino è scritto in francese però andiamo a vedere la box che ci interessa di più allora spostiamo tutto e la vediamo hai tutta si presenta tutto così non c'è niente di allora io ho già visto un prodotto calendula deep cleansing foaming face wash della kiels questo è fantastico questo è un 30 ml formato abbastanza grande questo è fantastico ve lo dico perché lo sto usando e allora poi questi invece non li conosco ma andiamo al prodotto makeup che mi attira della eiko black magic mascara drama e curl aspettate questo qui è un travel sites ovviamente però c'è una mega etichetta sopra e adesso io devo togliere per capire cosa 2 ml ah adesso devo andarla a vedere lo scovolino è fatto così è un 2 ml allora io amo i mascara travel sites le ho detto anche spesso volentieri sia qui che su instagram perché mi permettono di provare il prodotto provarlo per un po di tempo diciamo che la formula è un po per provarlo per un po di tempo per senza però che vada seccarsi perché naturalmente tanti da provare che apro una pro l'altra pro l'altro però poi si seccano invece così li posso provare tutti quindi siamo a due prodotti e poi altri due quindi quattro prodotti scusate 5 prodotti in tutto bene questo qua che si era terzo vediamo olio viso elixir notte della uigens è vegan no animal testing biorganic concentrato il rigeneratore da notte per il viso questo qui è piccolino con la pipetta abbiamo detto che è un olio viso quindi sarà ovviamente oleoso molto oleoso però si asciuga molto velocemente c'è contatto con la le mani è secco è profumato di lavanda mi piace ci piace ci piace vabbè andiamo avanti poi vediamo questo love beauty and planet coconut oil e young lang ah è uno shampoo vegan per riparare i capelli un 100 ml questo qui qui dico l'olio di andiamo a provare fresco un profumo fresco da epa all'estate giusto ci piace vegan niente male niente male e ci piace ci piace come comunque è un ben formato ultimo prodotto questo qui che è una cosa strana brave new care non riesco a capire ma il colore non promette bene illuminante corpo e capelli ah oltretutto formula vegan oh ci piace illuminante corpo e capelli scusate la quantità prima che io apro questa cosa non c'è non c'è la quantità ecco bene perfetto ah sì 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 50 ml oddio prendiamola da qui ma cos'è una cosa gelatinosa molto gelatinosa quindi una specie di gel che va applicato sul corpo si pensavo che avesse tutte quelle pagliette proviamo a prendere dalla confezione allora pensavo che invece a micro 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 glitterini alla fine sul non va si colora leggermente colora appena appena e non pensavo che fosse una cosa da dire oddio chiudiamolo perché meglio si comunque è un gel quindi assorbe subito pensavo che fosse un boom e invece luminoso si pieno di micro glitterini si già assorbito si ma ci piace il profumo non riesco a identificarlo sta di qualcosa ma non riesco a identificarlo beh ci piace allora andiamo a chiudere questa box dunque abbiamo detto calendula della Kiehl's 1 mini size del mascara delle Yeko 2 shampoo vegan 3 olio per il viso quindi da notte è concentrato vegan anche questo quindi durerà un po 4 e questo gel illuminante 5 5 prodotti e cosa ne avevo detto di prezzo 17 euro adesso dobbiamo andare a fare i conti perché io ho potere dell'editing come sempre ogni volta che vi mostro un prodotto vi avrò messo anche la scritta della quantità e del prezzo del prezzo del valore però adesso io vado a fare i conti perché voglio finire e di fare questo video quindi un attimo allora mi sono guardata questo libricino per vedere se oltre lo spoiler ci fossero anche i prezzi ma il prezzo abbastanza comodo è del formato delle full size quindi vabbè ho fatto il conteggio per il travel size e siamo a posto però è interessante come libricino perché comunque lo spoiler spiega anche mascara e far vedere dei prodotti parla di alcune cose far vedere anche delle app sarà tutto in francese ovviamente però è carino è carina ci piace allora il prezzo l'ho segnato il valore di 20 euro e 64 di questi mini size considerando che il prezzo della box è 17 euro siamo proprio streaming city è vero che sono tutti prodotti in questo caso tranne il Kiehl's perché il Kiehl's non è vegan esatto no non lo è quindi e ovviamente scusate è anche mascara tra i prodotti vegan e curly free e poi c'è il mascara ed è quindi buona box c'è un po' di tutto perché c'è un prodotto di make up un prodotto detergente uno shampoo un prodotto per corpo e capelli è un prodotto per il viso quindi è abbastanza completa ma il prezzo davvero il prezzo scusate il valore è un po' streminzito quindi appena appena ripende certo che così si possono provare dei prodotti niente mi è piaciuta come box sì curiosa carina interessante prodotti che sicuramente uso ed mi aspettavo forse qualcosina in più ma ci sta ci sta e quindi adesso voglio sapere da voi se conoscevate questo tipo di box se vi interessa se vi incurogisce se per caso ne volete provare una vi ricordo il codice qui sotto nell'info box che guardate sempre l'info box perché ci sono tantissimi codici anche quando non ve lo dico e in questo caso è 10 euro più 100 punti ed è sui vostri acquisti di tutto il sito quindi di tutti i marchi che trovate nel sito non è valido per le box in questo caso non credo che sia valido per le box non credo però per tutto il sito che ci sono tantissimi marchi e poi vi ricordo che comunque avete 100 punti anche ed ogni 100 punti che accumulate con gli acquisti c'è il 10% di sconto sul carrello quindi ed è niente io come sempre spesso a tutti vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo e vi do appuntamento al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao